Un italiano su quattro compra oggetti taroccati e Napoli è la capitale del falso. Per questo Confcommercio ha chiesto l'istituzione di una legge speciale che possa contrastare il fenomeno creando una sinergia tra forze dell'ordine e istituzioni. L'appello è stato lanciato nel corso della giornata della legalità che ha visto iniziative analoghe in molte città d'Italia. Il presidente di Confcommercio Napoli, Pietro Russo. Una problematica che naturalmente a noi attiene maggiormente perché modestamente siamo la capitale della contraffazione, dell'abusivismo, dell'illegalità e quant'altro. Credo che attenga sicuramente al nostro sistema economico, commerciale ma attiene soprattutto ai controlli e alle vigilanze e quindi naturalmente allo Stato che deve avere una particolare attenzione altrimenti qui la questione meridionale non si risolverà mai perché noi riteniamo invece che siamo una risorsa come diciamo in tutti i termini è inutile andarci a dilungare e non un problema. Nell'ambito della giornata della legalità uno stand è stato montato in Piazza Carità e volontari di Confcommercio hanno distribuito pane e un decalogo per la legalità. Maurizio Maddaloni, presidente Camera di Commercio di Napoli. Facendo valere le regole e le leggi attuali. Non occorre creare nuove leggi, nuove arzigogoli giuridici. Basta semplicemente applicare le regole attuali.